Preghiera del giorno Chiediamo rifugio e protezione alla Santa Vergine Maria Ecco una stupenda preghiera alla nostra Beata Madonna, alla Vergine Maria, Madre di Gesù, che tanto può fare per tutti noi se ci rivolgiamo a lei con il cuore puro. Dobbiamo ammettere di essere peccatori e questo ci aiuterà ad aprire il nostro cuore verso la Signora dei Cieli che può tutto. Ecco una preghiera davvero molto bella, semplice, breve ma intensa che ci permette di parlare con la Santa Madre del Redentore e chiedere, sotto la sua protezione, un valido rifugio. Quando viviamo un terribile momento proviamo a pregare perso la Madre di Gesù perché indubbiamente lei ci ascolterà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere, tu che, accogliendo il saluto dell'Angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore. Madre semprevergine, pietà di noi peccatori. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppiche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. O Vergine, gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo.